Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Riguardo alle recenti dimissioni dall'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, il famoso cantante Fedez ha rilasciato un'intervista approfondita al Corriere della Sera. Durante questa conversazione, ha condiviso dettagli significativi sul suo stato di salute. Dopo un intervento di successo per un raro tumore al pancreas, Fedez ha affrontato una dura battaglia contro una grave depressione e altri disturbi mentali. Per superare queste sfide, il cantante ha intrapreso una terapia chiamata stimolazione transcranica a corrente diretta. Inoltre, ha rivelato che la sua depressione si è aggravata fino a causare un attacco ipomaniacale, una condizione difficile da comprendere che può portare a una completa perdita di lucidità. Ma cos'è esattamente l'ipomania? Si tratta di una forma meno estrema di mania, che è una condizione psicopatologica in cui una persona manifesta un eccessivo livello di attività, energia ed eccitazione, accompagnati da umori e comportamenti esagerati. Questi cambiamenti nell'umore sono evidenti e possono essere notati anche da coloro che sono vicini alla persona coinvolta. L'ipomania è molto diversa dall'essere semplicemente entusiasti per una nuova opportunità o un progetto lavorativo. Si tratta di un cambiamento radicale e significativo nell'approccio e nell'atteggiamento della persona. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della salute di Fedez, sperando che possa uscire da questo brutto periodo.